gentili telespettatori buona giornata berlusconi prepara il video messaggio per proporsi al quirinale messaggio con con diversi messaggi al suo interno allora dice che se lui va al colle non si vota non si va alle urne non ci sono elezioni anticipate messaggio chiaro e preciso a tutti quelli che credono che il loro lavoro in politica termini con questo governo tutti quelli che sanno di non essere confermati c'è il taglio dei parlamentari ci sono le percentuali dei partiti che sono cambiate c'è il secondo mandato nei grillini c'è una marea di politici attuali tutti questi signor 13 mila euro al mese che sanno in molti di non essere più confermati e berlusconi ha già detto molte indiscrezioni dicono che lui abbia già contattato molti parlamentari per chiedergli di votarlo e in queste telefonate fatte da lui o da chi per chi per esso abbia detto che con lui al colle non si vota state tranquilli nessuno diventerà un disoccupato della politica si andrà avanti fino a fine mandato quindi lui dice se io vado al colle non si va alle urne messaggio principalmente per i grillini e per anche anche per gli altri però poi aggiunge guardate che se draghi prende il posto di mattarella al quirinale forza italia lascerà il governo lascerà il governo con la conseguenza che anche la lega lascerà il governo e con la conseguenza che si va alle elezioni anticipate quindi lui sta dicendo se vado al colle non si va alle elezioni anticipate e voi siete a posto se invece ci va a draghi ci saranno le elezioni anticipate perché noi usciamo dal governo uscirà la lega e si va al voto e voi perdete lo stipendio quindi cari amici cribio e cari amici è meglio votarmi beh insomma diciamo che berlusconi sta facendo lo scacco matto ha messo nell'angolo gli avversari e i parlamentari i parlamentari dicono beh a questo punto cribio votiamo per il silvio è che non è neanche così malaccio poi le voci che arrivano dai cinque stelle sono queste noi votiamo per berlusconi poi diamo la colpa al pd tanto il voto è segreto ma non è uno scherzo è vero è vero indiscrezioni che arrivano dalle chat dei grillini e voi direte ma come si fanno a sapere le chat dei grillini è in politica ci sono i cantanti quelli che svuotano il sacco quelli che parlano i giornali in cambio di qualche cento euro che c'hai la cento euro gli danno qualche cento euro e loro cantano alle grotti sapete cosa si dice nella chat si dice così votiamo berlusconi e poi diamo la colpa al pd una roba da ridere non credo chi prende il cellulare scrive una cosa così che magari sembra una battuta c'è un grandissimo fondo di verità sta lanciando proprio un messaggio votiamo berlusconi così diamo poi diamo la colpa al pd e intanto poi berlusconi mantiene le sue promesse perché il berlusca è il berlusca avrà fatto le sue promesse no se il berlusca telefono fa telefonare degli sconosciuti parlamentari dicendogli chiamo a nome di silvio o sono silvio mi voti al quirinai dice guardi intanto piacere di conoscerla non l'avevo mai conosciuta per telefono mi fa piacere sentirla a lei vuole che voto per lei al quirinale a ma il mio partito probabilmente vuole votare per qualcun altro cavaliere insomma a quel punto ovviamente sarà arrivata un'offerta cribio è o no mi stupirei se non fosse arrivata un'offerta comunque il problema di silvio non è tanto il come perché non sa non c'è un format dell'annuncio semmai quando perché il vertice del centrodestra si farà ma non c'è una data fissata se non un vago dopo la befana che può voler dire fine di questa settimana come di quella successiva bene lui vuol fare questo discorso sullo stile sullo stile trionfale del contratto con gli italiani del 1994 dove lui parla di una visione per il futuro promesse all'italia vaccini per tutti ecco trapela anche queste informazioni da qualche gola profonda che vorrebbe dire vaccini per tutti un po' quegli slogan alla berlusconi degli anni 90 tipo asfalteremo la pianura padana è un obiettivo concreto asfaltare la pianura padana ecco so quegli obiettivi no vaccini per tutti un po' alla cettola qualunque no che non si so siamo capiti no cettola la qualunque quando faceva le promesse dal 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 coso elettorale no bene benissimo quelli i voti necessari per essere eletto al quirinale alla quarta votazione con la maggioranza maggioranza assoluta di 505 voti su 1.009 aventi diritto con 505 voti berlusconi è presidente della repubblica un minuto dopo cade il governo perché esce il 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 pd letta ha trovato la contromisura a berlusconi minaccia di uscire dal governo se non diventa capo dello stato bene se diventa capo dello stato però non usciamo noi dal governo e il il governo cade lo stesso forse si fa strada una terza ipotesi i partiti cercheranno di mettersi d'accordo per non mandare né draghi né berlusconi perché se va uno va l'altro il governo cade lo stesso allora è meglio mettere qualcun altro che possa garantire i posti di lavoro fino alla fine della legislatura ma per mettersi d'accordo devono fare un patto segreto senza che lo sappia né berlusconi né draghi i principali capi politici dovrebbero sentirsi in gran segreto e dire votiamo per questo perché se votiamo draghi cade il governo se votiamo berlusconi cade il governo perché gli altri rispettivamente escono dalla maggioranza allora per andare avanti e mantenere il potere gli stipendi per tutti i nostri politici ci mettiamo d'accordo su un nome qualunque prendiamo un tizio perché cosa voi cosa credete che mattarella chi lo conosceva prima di diventare capo dello stato sergio mattarella nessuno nessuno quindi possono trovare chiunque un emerito sconosciuto e metterlo lì a fare presidente della repubblica vedremo si fa sempre più intrigante l'elezione del capo dello stato perché cambia tutto il contesto politico gli scenari le alleanze cambia tutto io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti